Ormai è caduta ogni speranza. Donald Trump non era da meno di Hillary Clinton, la guerra fondaia. È un paese, una grande nazione che è appena in grado di presentare all'elettorato due possibilità legate a due scampoli umani del genere è da ritenere mal ridotta e pericolosa. La ventatezza e l'imprudenza di Trump ha avuto ampia dimostrazione in questi giorni, quando come ergendosi a Dio della Terra ha deciso che Gerusalemme doveva essere la capitale dello Stato di Israele, determinando immediatamente morti e feriti. Ma nel sud-est asiatico che Trump sta giocando a fare la guerra ha mobilitato un'armata per le grandi manovre, composta da tre portaerei, mezzi in grado di trasportare bombe termonucleari, macchine belliche di tutti i tipi. Cosa ha voluto dimostrare? Che gli Stati Uniti sono i più forti? Che lui è il più forte? Ma è uno squallido obiettivo, piccolo piccolo, perché nessuno ha mai dubitato che fosse così. Il ministro degli esteri russo Lavrov, persona estremamente equilibrata, lo deduciamo da ciò che scrive, insieme ai coreani del nord, sono giunti alla conclusione che gli Stati Uniti sono alla ricerca di un pretesto per fare la guerra. Ed essi sono maestri nel creare incidenti. Ce n'è tutto un elenco nella storia. Si dice ma essi vogliono tenere sotto pressione la Corea del nord, sotto pressione. Ma sono 64 anni che lo sono. E' dal 1953, quando finì la guerra di Corea, gli Stati Uniti si rifiutarono di firmare un trattato di pace, lasciando intendere un giorno e non ritorneremo. E saremo in grado di colpirvi senza che voi possiate fare altrettanto. Troppo comodo, troppo comodo. Il progresso tecnologico ha cambiato le carte in tavola e gli americani non vogliono prenderne atto. Anzi aizzano tutto il mondo contro la Corea del nord, in particolare il Giappone, per le prove missilistiche che la Repubblica Democratica di Corea deve fare, perché sono i suoi mezzi legittimi di difesa. Si svolgono nei pressi del Giappone. Il territorio che ha a disposizione la Corea del nord non è molto vasto, è di appena 120.000 km2. L'Italia ne ha oltre 300.000, per dare un senso delle proporzioni. Quindi la loro non è provocazione. Le provocazioni sono tutte americane, ma uno stato di necessità.